Per me sta Torretto Verna è una conferma, è una conferma di qualità, di professionalità e anche di innovazione. Credo che venire qui significa veramente poter cambiare e dare nuova luce a questa professione che a volte è opaca. Per me è il numero uno. Tornerò qui sempre perché è una certezza vera di professionalità che è importante avere e si esce di qui con tante nuove idee, si esce più arricchite.